Difficoltà di concentrazione, una sorta di nebbia mentale che confonde le idee, ma anche dolori al petto, palpitazioni, stanchezza, difficoltà respiratorie. Sono questi i sintomi più comuni del long covid, ovvero gli effetti a lungo termine del coronavirus e delle sue varianti. Una condizione con la quale, visti i numeri da capogiro di contagi degli ultimi mesi, in moltissimi si ritrovano a fare conti. Si tratta per lo più di persone guarite dalla malattia, che, a distanza di almeno quattro settimane dall'infezione, continuano a stare male. Sul long covid si è acceso sempre più l'interesse della scienza. L'Istituto Superiore di Sanità ha avviato un progetto di studio, che coinvolge anche l'azienda regionale toscana, per definire le dimensioni del fenomeno, numero, caratteristiche e distribuzioni sul territorio internazionale dei centri long covid. Gli interrogativi sono ancora molti, mentre si continuano a raccogliere dati su un fenomeno con il quale, un po' come con il virus stesso, saremo costretti a convivere ancora a lungo. Buonasera, ben trovati insieme a Per Contro. Avete sentito dalla copertina di Luigi Casentini. Torniamo a parlare di covid e non covid. In particolare stasera cercheremo di rendervi più chiaro anche questo termine, anche se purtroppo probabilmente molti di voi che ci stanno seguendo avranno già il loro malgrado familiarizzato con questo concetto e con questo termine. Ne parliamo e siamo felici di averlo in studio con noi stasera con il professore Francesco Menichetti, infettivologo, presidente del GISA, gruppo italiano per stewardship antimicrobica. Mi corregga se sbaglio. Grazie di essere con noi. È stato già ospite con noi, la ringraziamo per questo in questi due anni. Ci ha aiutato, devo dire, spesso in collegamento, ma in studio, in presenza, a capire che fase stavamo e stiamo a questo punto ancora attraversando di questa lunga pandemia. Ricordiamo che è stato fino all'ottobre scorso responsabile delle malattie infettive a Cisanello, già ordinario all'Università di Pisa. Tra poco verremo anche all'impegno, allo studio che sta mettendo in campo, forte della sua esperienza, proprio sul long Covid. Ne parliamo tra un attimo perché prima c'è da capire che fase stiamo attraversando di questa pandemia. L'abbiamo raccontata un po' in tutte le sue evoluzioni. Si parte dai numeri, li commentiamo con lei. Dottore, partirei dalla tabella numero 1, difficile anche selezionare perché sono molti, ma abbiamo attinto dalla database dell'Arsa, quindi dell'Agenzia regionale Toscana per la Sanità. Partiamo dall'incidenza e questi sono dati che ci sono utili anche per capire questo long Covid, quanto può essere diffuso. Intanto in una fase, questo mi permetto di dirlo io, è calante, ma questo è evidente, in base anche all'andamento settimanale, questa è l'incidenza, una settimana a confronto dell'altra, l'ultima settimana è quella in blu più scuro e siamo in Toscana a 588 casi per 100 mila. La provincia di Luca, guardando più da vicino, è centrale, la vedete 556. Il dato a fianco è evidentemente ben più alto. Guardando la tabella numero 2, stringiamo l'occhio sulla nostra ASL, Toscana Nord-Ovest, sul territorio di area vasta. Qua addirittura proponiamo l'andamento da inizio pandemia, dal 2020, si va indietro con la memoria ormai purtroppo di un po', quel picco tremendo che si vede, è vicinissimo nel tempo perché a livello di incidenza, mi correga se sbaglio, di diffusione del contagio, il picco in realtà l'abbiamo appena superato, perché con la Omicron, mi spiegherà lei, il 10 gennaio siamo arrivati oltre i 300 e ora siamo scesi, invece come vedete siamo sotto intorno ai 120 di incidenza per 100 mila. Quindi, dopo aver visto questi dati, le chiedo che fase è questa? Beh, è una fase di rallentamento, finalmente di flessione. Noi abbiamo vissuto fino a pochi giorni fa la massima diffusione del contagio legato all'effetto Omicron. Omicron si è rivelata una variante diversa da Delta per la sua maggiore contagiosità, siamo passati da un italiano infetto ogni 6 a un italiano infetto ogni 4, quindi come dire, anche grazie a una scelta che è stata anche molto discussa, quella adottata dalle autorità governative e sanitarie intorno a Natale, di lasciarla circolare liberamente, contando sulla protezione vaccinale buona, generalmente buona e sui comportamenti corretti da parte dei nostri concittadini. Devo dire, io ero stato particolarmente perplesso, anche critico perché lasciare circolare liberamente comunque un virus comporta sempre un rischio perché le conseguenze sono comunque non sempre ben calcolabili o controllabili. Però debbo riconoscere che dopo quella fiammata che abbiamo visto, di contagi che ha anche arrecato una pressione non devastante sui servizi sanitari, ospedali e degenza ordinare, terapia intensiva, senza far implodere però il sistema, adesso c'è finalmente un chiaro rallentamento, l'RT, l'indice di diffusione del contagio che aveva superato 1,2, adesso è intorno a 1, sta probabilmente raggiungendo dei livelli inferiori e ci predisponiamo, si spera, a questa primavera estate che dovrebbe essere, questo è l'auspicio, il momento della svolta. Visto che ha citato la situazione degli ospedali, vediamo i prossimi numeri nelle grafiche 3 e 4 con la situazione dei ricoveri, sempre per fotografare l'andamento che c'è stato, ancora dati dell'Arts e queste sono tutte le curve che abbiamo registrato dal 25 di febbraio 2020 ad oggi, a livello di ricoveri generali vedete il picco assoluto il 23 di novembre 2020 in Toscana, sono dati regionali, 2.128, poi un altro picco che è seguito nei mesi successivi, le varie ondate come poi è stata quella della primavera, sostanzialmente fine inverno dell'anno scorso e poi vedete dove siamo adesso, i dati sono quelli del 19 di aprile, quindi con un giorno di scarto 758 ricoveri in tutta la Toscana. Proseguo con la terapia intensiva che è ovviamente monitorata da vicino perché anche dopo la vaccinazione lei ci insegna, insomma è stato soprattutto questo il dato più importante dove finivano soprattutto i non vaccinati, un picco iniziale altissimo quando eravamo completamente disarmati contro il virus, arrivati invece al 2022 sono la curva finale, oggi siamo a 29, il picco di questa ondata che lei ricordava non proprio fiammante sugli ospedali, lo vedete arrivata tra gennaio e febbraio. Per spiegare, siamo dunque vicini a una fase cosiddetta endemica come si è detto? E questo è l'auspicio, non ne abbiamo certezza. Cioè dove si convive in maniera gestibile con una malattia? È difficile poter considerare il SARS-CoV-2 un virus stagionale simile all'influenza, ma l'auspicio è quello che possa magari continuare a circolare, però a basso livello, quindi una circolazione endemica, non epidemica e che se non muta ancora in modo negativo acquistando nuova patogenicità o aggressività, come era la variante Delta, possa rappresentare un problema soltanto per i fragili e gli anziani. È lì che dovremmo concentrare, questo è l'auspicio, è anche un po' più di un auspicio quanto ci attendiamo ad oggi, dobbiamo concentrare gli sforzi nel proteggere anziani e soggetti fragili perché è in quei soggetti, se non protetti adeguatamente dalla copertura vaccinale, che il Covid può continuare a provocare conseguenze serie. È chiaro che se provoca invece una modesta infezione respiratoria, poco più del raffreddore, il mal di gole o quant'altro, va riconsiderato secondo me a tutti i livelli anche l'obbligo della quarantena. Oggi abbiamo in Italia ancora isolati in quarantena a domicilio quasi 1 milione e 200 mila persone, una quota sono ricoverate, ma una quota molto minima, ma l'impatto sociale di tenere in quarantena fermi a casa oltre 1 milione di concittadini, secondo me a questo punto va rivisto. Ci sono storie quotidiane di persone che sono fermi in casa da 20 giorni dopo magari i primi giorni di malattia. Io non credo valga più la pena, io penso che si debba proprio ripartire non tanto dall'abbandonare le mascherine, che è un messaggio sbagliato, non abbiamo nessuna necessità, la mascherina ci ha aiutato come i vaccini, ci ha aiutato anche a proteggersi dall'epidemia influenzale, quindi mi pare stolto concentrarci su questo. Però rivedere le regole della quarantena probabilmente è tempo, è tempo di rivedere le regole dell'isolamento domiciliare, così come è tempo… Questo significa, mi scusi, positivi asintomatici che possono circolare quasi liberamente. Con precauzioni, con un galateo comportamentale che include la mascherina e il distanziamento che sia accettabile, ma io non penso che valga più la pena con questa circolazione, con queste temperature alle soglie della primavera avanzata. Penso che questo sia realmente il tema, come se mi permette, il tema è anche quello di una diversa organizzazione ospedaliera, io penso sempre con rammarico, con dolore al reparto che ho diretto fino a poche settimane fa, quello di malattie infettive all'azienda ospedale universitaria di Pisa, un reparto universitario che è costretto a fare solo Covid, non possiamo, dobbiamo essere messi nelle condizioni di tornare a fare la nostra specialità, perché abbiamo degli oneri didattici, ma perché abbiamo anche la competenza per assistere i nostri pazienti, perché mandarli a Livorno o a Lucca con tutto rispetto per i nostri colleghi. E poi perché non è che tutto il resto si è fermato, che le altre malattie si sono fermate. Assolutamente, tempo ecco, io spero che le direzioni aziendali siano in grado almeno di rivedere questo approccio che non è equilibrato. Ci fermiamo, per pochi istanti ripartiamo da qua tra pochissime e poi verremo appunto a come trattare, riconoscere e gestire anche per chi ci ascolta, insomma le famiglie, i pazienti, questo long Covid e capire innanzitutto che cos'è. Pochi istanti di pausa e torniamo ancora insieme in studio con il dottor Menichetti. Di nuovo insieme, ben ritrovati a per contro, in studio con noi ancora il dottore e il professore Francesco Menichetti. Parlavamo e davamo uno sguardo ai dati sulla diffusione da Covid sul territorio. Ripartirei, dottore, proprio da qua e chiedo alla regia la tabella numero 5, l'ultimo sguardo numerico per andare ancora più da vicino sulla zona di area vasta, si intende Toscana Nord-Ovest, per far capire come sono cambiati, insomma come negli andamenti settimanali i numeri sono calati, sia sui ricoveri che sui nuovi positivi. Gli ultimi numeri del 18 di aprile, 9.600 nuovi contagi e lo vedete le settimane precedenti i numeri quali erano. E sui ricoveri, il dato più significativo, almeno per quanto riguarda lo stress sulle forze sanitarie, siamo poco più di 200, se ne sono dunque liberati di posti una quarantina nel giro di due settimane. Si faceva riferimento a cosa andrebbe cambiata, è chiaro che le istituzioni sanitarie si stanno confrontando su questo a livello di governo, entro la fine del mese ci si attende un nuovo decreto, una misura che chiarisca cosa faremo dal primo di maggio. Mascherine, lei diceva, è necessario portarle ancora, anche al chiuso si intende? Assolutamente sì, insomma io ho la mascherina qui in tasca, perché? Perché utilizzo la mascherina negli ambienti chiusi, ma anche le dico all'aperto, laddove non sia possibile osservare un distanziamento personale o ci sia una particolare aggregazione. Mi pare semplicemente una forma di protezione personale che ha un'efficacia che qualcuno ha messo, secondo me erroneamente, in discussione, ma che invece ci aiuta, ci ha aiutato e continuerà ad aiutarci. Vaccini e buoni comportamenti sono quello che siamo in grado di mettere in campo e dobbiamo continuare a farlo, ma dobbiamo probabilmente normalizzare il Covid e cercare di rivedere tutte le regole, le normative, a partire, ribadisco, da quella che impone la quarantena domiciliare, che magari è molto prolungata, perché se si aspetta il tampone negativo talvolta arriva presto, talvolta non sembra arrivare mai e questo crea un danno sociale, un danno economico, un danno personale. Psicologico anche? Anche psicologico, ma pensiamo a una persona che lavora, una persona che intraprende, una persona che ha delle attività, è tagliato fuori. A questo punto, secondo me, accorciando molto i tempi, uno potrebbe prescindere dalla documentata negatività, imporre dei tempi 5-7 giorni e poi consigliare dei comportamenti prudenti e dare un po' il via libera, se no c'è, come dire, se no si vive un paradosso. Allora, invece veniamo a questo Long Covid, come dire, banalizzando, mi corregga, sono un effetto a lungo termine, a medio termine del Covid-19 sui pazienti che poi sono guariti. Questo fenomeno quanto viene al momento studiato, quanto se ne sa e come lo può descrivere? Io l'ho definito il male oscuro, mutuando una definizione che il Professor Cassano utilizzò a suo tempo per la sindrome depressiva. Perché il male oscuro? Perché ci si sta rendendo conto che dal 15 al 30% di chi ha contratto l'infezione Covid-19, anche in forma sintomatica, non obbligatoriamente una forma grave che abbia richiesto il ricovero, può sviluppare dei sintomi che sono o il prolungamento di quelli che ha sofferto durante il Covid-19 o, e il più spesso delle volte è questa seconda ipotesi, un nuovo corteo sintomatologico che si manifesta dopo la guarigione virologica e dai 2 ai 6 mesi dopo l'infezione. Questo è il post-Covid, long Covid, in pratica andiamo dai danni d'organo che il Covid, essendo una malattia sistemica, può lasciare a chi lo ha subito, il polmone in primis, ma anche il cuore, il sistema nervoso centrale, la nebbia che lascia questo tundimento del sensorio che persiste per settimane, alterazioni del gusto, dell'olfatto, danni a carico dei nervi periferici, queste sono le conseguenze d'organo. Ha sindrome sistemiche che sono delle sindrome molti infiammatorie, soprattutto la sindrome della stanchezza cronica, che assomiglia molto alla sindrome della stanchezza cronica post-virale che noi abbiamo conosciuto con la mononucleosi o con altre virosi classiche, che lascia una spossatezza che mette knock out la persona, che non la mette più in grado di vivere normalmente, non si alza dal letto volentieri, il riposo non è ristoratore, si ha difficoltà nel lavoro, nelle relazioni sociali, personali, nell'impegno professionale. Se lei pensa che questi fenomeni possono interessare dal 15 al 30% di chi è stato infetto, capisce bene che il fenomeno ancora va a… Esatto, questo ci riporta dei dati che abbiamo visto poco fa, chiede a Matteo Bertuccialli in regia se ci può riportare ad esempio alla tabella 2 l'incidenza di positivi nella zona ASL, l'abbiamo mostrata all'inizio, a numeri così alti di incidenza, eccolo qua, è recente, perché sono due mesi fa, tre mesi fa, era gennaio, vuol dire che quella curva che ha portato a migliaia di positivi e poi nel giro di qualche mese, se la proporzione è questa, insomma di un 15-20% questo long covid è destinato a essere abbastanza difficile. L'augurio è certo che non succeda… Non è matematico ovviamente, però… No, non è matematico, però stiamo parlando di un fenomeno che avrà delle dimensioni significative. E come si interviene, come si deve curare e ha un discorso in realtà naturale? È un materia ancora di studio, di impegno da parte dei ricercatori, di grossi centri, io stesso mi sto impegnando a portare avanti un'attività che è quella di agnosi, che è importante perché non bisogna confondere il post-covid, il long covid con altre patologie che sono più facilmente emendabili, che richiedono degli approcci diversi. Bisogna continuare attivamente a approfondire i quadri sindromici e i meccanismi, se possibili, che stanno alla base di questa sindrome e cercare anche di verificare se gli interventi terapeutici che noi proponiamo abbiano un'efficacia adeguata. L'importante, quello che io raccomando ai miei colleghi, è l'ascolto. L'ascolto è fondamentale. Quando si ha un paziente che ha avuto qualunque forma di covid, asintomatica o grave, ricoverato o non ricoverato, che lamenta dei disturbi, prima di liquidarlo dicendo che non ha nulla o che è solo una questione di esaurimento nervoso, bisogna essere cauti, ascoltarlo bene, approfondire e poi cercare di verificare con oggettività. C'è molto da fare, molto da fare. Allora, prima di fermarmi, tra poco la saluteremo professore e poi avremo con noi un ospite molto importante nella seconda parte di puntata, avremo con noi Marco Cappato che ci parlerà del suo impegno su tutto il territorio italiano, in Versilia, sui diritti, la lotta per l'eutanasia legale, insomma vari temi che affronteremo con lui, ma ci tengo a farle ancora due domande. Ha fatto una raccomandazione, diciamo così, ai suoi colleghi, al paziente, a chi ci ha ascolta, anche in termini abbastanza semplici, diciamo, e dovessero avvisare questi sintomi dopo aver avuto il Covid, cosa fare? Sentire il medico di base? Beh, io direi sicuramente la prima interfaccia è il medico di medicina generale o il pediatra di base, cioè il medico di riferimento. Ai medici di medicina generale e pediatri di base faccio presente di rivolgersi a chi si occupa di long Covid, sono alcune strutture sanitarie pubbliche o alcuni professionisti, come il sottoscritto, che offrono sicuramente esperienza e disponibilità nel adottare un percorso che è personalizzato e che deve essere assolutamente condiviso con il paziente e con i curanti. Da qua mi viene una seconda domanda, lei appunto abbiamo ricordato anche il suo curriculum si lega alla sanità pubblica per tutta la vita, a livello professionale, sa bene quali sono le dinamiche interne, il sistema sanitario dovrebbe anche adeguarsi un po' a questa domanda che arriverà da pazienti, la medicina del territorio va potenziata. Penso di sì, ma deve essere come al solito la proposta di un modello organizzativo, ma ci vuole sostanza, competenza ed esperienza. Non si può applicare al long Covid, al post Covid, ma in generale alla sanità toscana l'uno vale uno. L'uno vale uno appiattisce e non dà alcuna garanzia di qualità, bisogna avere la capacità e il coraggio di far suonare i solisti laddove sia necessario, avendo però a disposizione una buona orchestra che sa leggere la musica e sa corrispondere al direttore. La metafora è stata molto chiara, anche suggestiva, penso che sia più che comprensibile. Mi devo fermare qua per questa parte di trasmissione con lei, la ringrazio Professor Menichetti per essere stato con noi in studio, la richiameremo perché ci sarà probabilmente bisogno anche in futuro di avere un occhio che ci guida nell'interpretare quello che sta accadendo. Grazie, dicevo, al Professor Francesco Menichetti, rimanete con noi tra pochissimi istanti, subito dopo la pubblicità, torniamo insieme e qua nei nostri studi arriverà, come vi dicevo, Marco Cappato, attivista, tesoriere dell'associazione Luca Cuscioni, una vita che ha dedicato per la lotta ai diritti, in particolare negli ultimi tempi, sull'eutanasia legale. Sentiremo come questa battaglia andrà avanti anche sul nostro territorio. A tra pochissimo. Di nuovo insieme, ancora buonasera e ben ritrovati a per contro. Dunque, come vi avevamo annunciato e qua con noi in studio, Marco Cappato, tesoriere dell'associazione Luca Cuscioni, buonasera, ben trovato. Grazie, buonasera a voi che ci guarda. Grazie a lei di essere con noi. Tornato in Versilia, dove è abbastanza di casa, diciamo, la verità, peraltro ci eravamo conosciuti anche la scorsa estate, in quella turca aveva toccato tutta l'Italia, con oltre un milione di firme raccolte, chi ci guarda già sa di che cosa andiamo a parlare, un tema molto delicato che è stato affrontato anche oggi in un incontro che l'ha vista protagonista Pietrasanta, eutanasia, fine vita, diritti e in generale parliamo di democrazia, alla fine una discussione di cui non possiamo mai essere sazi. Ecco qua Agostino, nella sala dell'Annunziata, organizzato, lo voglio ricordare, dell'associazione culturale Orlando Cecchi Pandolfini e Croceverde, molto partecipato, almeno un centinaio di persone, e questo partiamo da qua, Marco, poi i temi sono tanti nel tempo che ci concedi, cerchiamo di fare le idee più chiare possibile a chi ci ascolta. Questo cosa vuol dire intanto? Perché diciamo la verità si viene da un po' di delusione inevitabile, perché come sapete la consulta a febbraio ha bocciato il referendum, quelle firme raccolte così tante, migliaia anche qua, ci si è ritrovata a ricostruire tutto quanto un po' da capo, nel mezzo a un dibattito, quello su un disegno di legge, non sull'eutanasia, ma sul suicidio assistito. La risposta di oggi e altri incontri che cosa significa? Intanto già la raccolta firme è stata straordinaria in Versiglia, devo dire con Fabio Simonini che ha coordinato qui, 10 mila firme oltre, ma soprattutto tavoli di raccolta firme anche nei piccoli centri, anche proprio fuori dalle grandi zone di concentrazione e anche del turismo, quindi è stata una grossa esperienza che sarebbe stata impossibile se non fosse un tema che le persone conoscono senza bisogno che glielo spieghino i partiti o la politica, perché ormai parlare di eutanasia o di fine vita significa parlare di temi che direttamente e indirettamente hanno toccato tutte le famiglie italiane, ormai con il progredire della scienza medica e l'allungarsi della vita media delle persone, ormai avere avuto l'esperienza di affiancare qualcuno che soffre nella fase terminale della sua vita riguarda tutti, quindi anche se la politica ufficiale dei partiti ha paura di occuparsi di questi temi, la gente è rimasta colpita, interessata ai tavoli e non è che perché la Corte Costituzionale ha bocciato il referendum, il problema non esiste più, anzi il problema continua ad aggravarsi ed è il problema di tante, troppe persone che si trovano a dover subire contro la propria volontà una condizione di sofferenza insopportabile. Oggi dicevamo circa un centinaio di persone di un tema avvertito e percepito dalla popolazione, un tema non facile da digerire, da ascoltare, da capire, tra l'altro si scende anche in particolari naturalmente giuridici, le norme attuali, le riforme possibili è stato il tema di oggi, che cosa vi chiedono? Quali sono i punti che chi è interessato evidentemente anche a favore di questa direzione che si può prendere? Che cosa vi chiede? Innanzitutto si parte dall'esperienza personale di ciascuno, cioè cosa devo fare, come si fa per fare il testamento biologico, per poter scegliere su se stessi, per non dover subire le decisioni di altri. È importante distinguere tra quello che è già legale, ma poco si conosce, da quello che invece sono i diritti da conquistare. Per esempio il testamento biologico, le direttive anticipate di trattamento sono già legali e si possono effettuare gratuitamente nel proprio comune, quindi all'anagrafe di qualsiasi dei comuni di questa zona e di tutta Italia, in Toscana in particolare anche le ASL allo sportello informazioni dovrebbero fornire assistenza e informazioni sul testamento biologico. Però la gente non lo sa, quindi la serata di oggi a Pietrasanta è servita anche proprio a dare informazioni base su quelli che sono già i diritti delle persone. Trovate anche tutte le informazioni sul sito dell'associazione Luca Coscioni, dove trovate anche i moduli del testamento biologico, poi ognuno decide come vuole, non è che siccome uno ha le informazioni bisogna decidere tutto uguale, ma è fondamentale questo aspetto. Poi ci sono il cosiddetto aiuto al suicidio, il diritto a poter decidere di essere aiutati a morire, che a certe condizioni è già legale in Italia se la persona è sottoposta a una sofferenza insopportabile che gli deriva da una patologia irreversibile ed è tenuto in vita da trattamenti sanitari. Anche in quel caso c'è la possibilità legalmente dell'aiuto al suicidio. Quello che non si può fare è quello che si può fare in Spagna, in Olanda, l'eutanasia attiva per mano di un medico su richiesta del paziente in condizioni di sofferenza e di insopportabile. Esatto, quindi poi chiaramente è una distinzione da tenere ben marcata. Andando per gradi, diceva poco fa, non è certo la bocciatura dalla consulta, ovviamente rilevante e deludente per chi ha promosso il referendum, a fermare questa lotta per i diritti, tant'è che siete di nuovo in prima linea adesso, nel mese di aprile avete lanciato anche un altro appello da rivolgere al Parlamento perché proprio in questa fase, in questi giorni o in queste ore, magari forse si ha delle notizie più aggiornate e ce le può riferire, deve essere calendarizzata la discussione in Senato, in Commissione Giustizia, sul disegno di legge per il suicidio assistito. Poi veniamo anche nei dettagli per capire un po' meglio di che cosa si tratta. È già passato alla Camera un mese fa, era metà di marzo. Facciamo così, intanto vediamo brevemente nella tabella 1 essenzialmente che cosa prevede, abbiamo riassunto al massimo naturalmente, è difficile poterlo fare in maniera esaustiva, però per spiegarci dunque cosa cambia, non è più punibile il fine vita se praticato autonomamente dal paziente, chi può richiedere il suicidio assistito? Il paziente maggiorenne è in grado di intendere di volere già coinvolto in un percorso di cure palliative affetto da una patologia irreversibile da promiosi in fausta tenuto in vita da trattamenti sanitari di sostegno vitale. Ci sono ovviamente anche altri particolari, se ne sono sfuggiti alcuni importanti li può naturalmente integrare. Voi avete detto come associazione però si rischia, anzi è facile in questo caso fare discriminazione tra i vari malati, perché? Intanto non è detto che il Senato discute effettivamente la legge, perché è passata alla Camera. Per questo le chiedevo se ha notizie di quando viene calendarizzato. Oggi dovevano discutere sui relatori, c'era chi addirittura… E già qua, ecco è già una discussione… Girava il nome di Pillon, adesso non lo so, io magari non ho informazioni nell'ultimo momento, ma quindi c'è il problema della calendarizzazione, cioè dei tempi certi di discussione al Senato. E poi c'è un problema di contenuti, perché quel criterio che avete fatto vedere, cioè essere tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale, significa che chi ad esempio è attaccato a una macchina, se passa la legge, in realtà può già sulla base della giurisprudenza della Corte Costituzionale essere aiutato a morire. Però l'esempio più comune di pazienti che non sono attaccati a una macchina, non sono dipendenti da trattamenti di sostegno vitale, ma possono essere in condizioni di sofferenza e irreversibilità tale da volere anche chiedere l'eutanasia, i malati terminali di cancro per esempio, i pazienti oncologici solitamente non hanno una terapia che li tiene in vita, che se li interrompe finiscono la vita. Allora non si capisce perché in quella situazione e condizione bisogna essere pregiudizialmente esclusi dal diritto di poter scegliere. Ecco perché noi abbiamo chiesto ai parlamentari, in particolare in questi due partiti che questa proposta hanno mandato avanti e hanno votato la Camera, il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle, francavete non capisco perché insistano a mantenere nella legge questa potenziale discriminazione. Venendo alla tabella 2, abbiamo ancora tempo prima di doverci fermare, veniamo e torniamo a quella distinzione a cui si faceva riferimento poco fa fra eutanasia e suicidio assistito. Aveva accennato, ma è una linea di demarcazione che deve essere chiara, perché altrimenti la battaglia per l'eutanasia, dal vostro punto di vista deve andare avanti, perché l'eutanasia non comporta la partecipazione attiva del paziente, ma appunto è il ruolo del medico, del personale sanitario che ha fazione diretta e somministra dunque il farmaco che porta poi al decesso. Il suicidio assistito, come si diceva, la persona malata rassume in modo indipendente il farmaco, il sanitario prepara il farmaco e il paziente lo assume autonomamente. Ed è questo il passaggio. Tra i gruppi e le personalità che si spendono e si sono spese di più per questa battaglia, le ricordiamo ad esempio a Emma Bonino, lei si è ritenuta, l'ha dichiarato in questi giorni sulla stampa soddisfatta a metà, cerca di vedere il bicchiere mezzo pieno. Da suo punto di vista invece… Allora, intanto io penso che in realtà il fatto che una cosa sia legale o no, non dovrebbe dipendere se lo fa il medico, se se lo fa da solo il paziente. Io sono stato processato al tribunale di massa per avere aiutato a andare in Svizzera Davide Trentini, che era un malato di sclerosi multipla in una fase di sofferenza ormai del tutto insopportabile e sono stato assolto solo perché effettivamente abbiamo dimostrato in tribunale a massa dove il PM, dove il Pubblico Ministero aveva chiesto una condanna a tre anni e mezzo, sono stato assolto perché abbiamo dimostrato che Trentini era sottoposto a delle cure e che se le avesse sospese sarebbe morto. Ma che senso ha questo tipo di discriminazione? Perché dobbiamo arrivare a questo, ad attaccarci a questi particolari. Invece di andare in Svizzera per il suicidio assistito, fosse stato, una volta che si riconosce al paziente questo diritto, un medico ad aiutarlo perché una cosa è giusta e l'altra cosa addirittura deve essere condannata con 15 anni di carcere. Non ha senso, il diritto deve dipendere dalla condizione soggettiva del paziente e dalla sua libera scelta. È una scelta drammatica, ma noi dobbiamo aiutare queste persone a decidere liberamente, non a subire le scelte degli altri. Mi devo fermare per una brevissima pausa pubblicitaria, ci rivediamo tra pochissimo e proseguiamo nella nostra intervista con Marco Cappato, tra pochissimi istanti di nuovo insieme. Di nuovo insieme, ben ritrovati a per contro con noi in studio Marco Cappato, riprendiamo dunque dal tema che abbiamo affrontato insieme e ha citato poco fa il caso Trentini e dunque il processo che ha subito il Tribunale di Massa, questo mi porta a fare un passo indietro, invece al caso ancora più conosciuto, quello di DJ Fabbo che l'ha portata ovviamente in Svizzera, sappiamo soprattutto l'esito processuale che ha portato a un punto importante che oggi spinge il Parlamento a poter intervenire dalla Corte Costituzionale sul reato di aiuto al suicidio, che evidentemente in alcune contesti e circostanze non viene considerato reato. Su questo principio ora il Parlamento al di là delle schermaglie politiche che però sono al centro del dibattito dovrà intervenire, a questo punto è anche il faro della vostra azione di qui in avanti? Assolutamente, il problema è che in Italia avere un diretto non basta, perché se poi non c'è qualcuno che ha un obbligo e tutti fanno finta di non vedere, che cosa intendo? La sentenza della Corte Costituzionale da tre anni e mezzo ormai avrebbe consentito a dei pazienti in quelle quattro condizioni di terminalità, irreversibilità e sofferenza tenuti in vita da terapie di poter terminare la propria vita, in tre anni e mezzo nessuno ci è riuscito, perché il sistema sanitario, le ASL di fatto si rifiutano, in Italia si ragiona nel tipo tu hai il diritto ma io non ho nessun obbligo e quindi per paura, per abitudine, per timore di andare a finire i guai nessuno sta facendo nulla, allora ecco perché servirebbe comunque una legge, servirebbe una legge per definire dei tempi, delle procedure, se tu fai la richiesta entro quanto ti deve rispondere la ASL, chi deve rispondere esattamente, qual è la procedura, qual è il farmaco? Proprio nelle scorse settimane noi come associazione Luca Coscioni abbiamo aiutato una persona nelle marche, Mario, nelle marche a fare questa richiesta, lui ha atteso 18 mesi prima che la ASL gli andasse a fare una visita, lui ha diritto, ma per 18 mesi non gli hanno neanche verificato le condizioni, è chiaro che 18 mesi per un malato in condizioni terminali o di sofferenze insopportabili sono un tempo enorme, sono un tempo enorme, per cui io sono sicuro che anche ne parlandone così ci sono tante persone che sono interessate magari per subito o che sarebbero interessate in prospettiva di avere la libertà di farlo, poi magari non lo sceglierebbero, però intanto vorrebbero poter essere nelle condizioni di poter decidere. Ecco, in assenza di una legge, questa sentenza della Corte Costituzionale sul mio processo ha stabilito dei principi, ma non è ancora riuscita ad aiutare le persone a fare valere i propri diritti. Non basta ancora, questo è evidente. Senta, mi tocca un po' trascinarla sul piano politico, diciamo così, ma del resto lei è stato parlamentare europeo, deputato, conosce bene questi meccanismi, diceva poco fa, ancora non sappiamo bene quando viene calendarizzato in Senato, sappiamo come funzionano i vari equilibri, sappiamo che in Senato la componente di centro-sinistra che ha più sostenuto questo RIDL è più debole, i numeri sono più in bilico e si vocifera che ci siano delle grosse difficoltà, insomma temete che possa fare un po' la fine del DDL Zan, tanto per intenderci, insomma che alla fine non se ne faccia di niente? Allora, in questi casi si dice dagli amici mi guardi Dio che dai nemici mi guardo io, perché? Perché gli avversari espliciti in questi temi… I pillon della situazione, insomma, no? Che ha una posizione chiarissima, no? Nel altro, tutte le posizioni sono legittime ed è chiaro che c'è chi è nettamente contro e sono però posizioni molto minoritarie nel Paese. A volte mi preoccupa di più chi ha parole è più o meno d'accordo, però poi non prende il coraggio di fare una battaglia, fare una battaglia non vuole dire fare un comunicato stampa o alzare una bandierina, significa lottare per fare valere una posizione e un obiettivo. Ecco, io sono convinto che se quelli che dicono di essere a favore facessero veramente una lotta nel Parlamento e nel Paese, la legge passerebbe senza troppe difficoltà, perché non lo dico io, ma tutti i sondaggi che sono fatti sul tema parlano del 70-80% di persone che sono d'accordo. Invece c'è questo terrore un po' di non scontentare il Vaticano, un po' di non scontentare la minoranza interna del partito. Già nella campagna di raccolta firme, anche qui in Versilia, i consiglieri comunali, regionali, i parlamentari anche di diversi partiti erano ai banchetti che raccoglievano le firme d'agosto sotto il soleone. I capi dei partiti, zitti, non hanno speso una parola. Questo è uno dei problemi della politica italiana, i leader non guidano, i leader anzi hanno paura della loro ombra e spesso sono più coraggiosi i militanti, gli attivisti e chi fa la politica sul territorio. I tempi naturalmente sono cruciali in questa battaglia perché siamo a fine legislatura, lo sappiamo, si dovrà capire nelle prossime settimane e mesi come verrà gestito questo dossier, nel caso si vada a fine legislatura questa battaglia come potrà andare avanti dal vostro punto di vista? Come è andata avanti in questi 15 anni da Wellbeing Point? Noi comunque stiamo fornendo aiuto diretto alle persone che ce lo chiedono e se sarà necessario farlo di nuovo con azioni di disobbedenza civile e affrontando nuovi processi, personalmente lo farò ancora, lo faremo con Mina Welby, con l'Associazione Luca Coscioni, con Filomena Gallo, siamo mobilitati per questo, cioè se i referendum non si possono fare, se le ha… Si, in realtà non entriamo in questo dibattito, in realtà il referendum era formulato nell'unico modo in cui si poteva formulare e non rientrava tra le materie per le quali la Costituzione prevede che non si possa fare il referendum, quindi a mio avviso è stata una decisione grave contro la democrazia in Italia non consentire il referendum, quindi quel referendum non ce l'hanno fatto fare, non l'hanno fatto fare non a noi, al popolo italiano, le aule parlamentari non sappiamo se dopo 3 anni e mezzo che la consulta gliel'ha chiesto riusciranno a prendere una decisione, se non ci sono le aule parlamentari ci saranno le aule di tribunale, ma il problema è così sentito, così importante, così diffuso che non può restare senza una soluzione, noi con l'associazione Luca Coscioni siamo mobilitati per ottenerla. Lei ci diceva poco fa, la maggioranza del Paese su questi temi del fine vita, del suicidio assistito e eutanasia non riflette almeno quella dichiarata all'interno del Parlamento, diciamo così, dai capi dei partiti. Alcuni anni fa, credo forse addirittura 10, avevate fatto anche un video appello, con tantissimi testimoni, un video che ha girato il web e non soltanto, con tanti testimonial, anche molto conosciuti, ma anche personaggi non conosciuti, diciamo così, l'italiano o l'italiana della strada, per fare appello al Parlamento a intervenire. Oggi, a distanza di tanto tempo, con questi passaggi purtroppo dal punto di vista vostro falliti che ci sono stati, che tipo di appello fareste? Ad esempio, credete che si debba lasciare su un tema etico maggiore libertà di coscienza ai singoli delegati del Parlamento? Sicuramente questo non è un tema nel programma del governo, di nessun governo, meno che mai di questo, perché Draghi, qualunque cosa ne si pensi, ha avuto un mandato, un compito molto preciso, per me è giusto così, cioè la gestione della pandemia anche da un punto di vista economico e oggi anche questa nuova situazione tragica della guerra di aggressione di Putin contro l'Ucraina. Quindi su temi come questo, ma anche sui temi della giustizia, sui temi dell'immigrazione, dei diritti civili, il Parlamento deve essere libero di discutere e decidere senza che da ciò dipenda la salute del governo. Detto in altre parole, non è che se passa una legge o non passa una legge sull'eutanasia o sul matrimonio ugualitario, allora deve cadere il governo. Non si segue per forza lo schema della maggioranza, parlando in politichese. Non deve essere questo lo schema e il modello, bisogna poter decidere liberamente. Purtroppo in Italia c'è la strumentalizzazione continua su tutto e tra l'altro a livello di questi grandi salotti televisivi nazionali, questi temi non si affrontano e questo è anche un problema. È questo, è uno degli ultimi temi che volevo toccare, perché è chiaro che su queste questioni si possono legittimamente avere posizioni molto diverse. Chi ci ascolta senz'altro la può pensare in maniera diversa dalla posizione che ci rappresenta lei, ma talvolta, come ha ricordato, è difficile dibattere su questo tema, perché il fatto che sia divisivo sembra essere una barriera per evitare di affrontare il problema. La democrazia se non è fatta di questo, di che cosa è fatta? Bisogna discutere solo delle cose di cui siamo d'accordo, ma allora che cosa discutiamo a fare? Di fatti penso che la cosa più pericolosa che sta succedendo ed è che è successa anche con la bucciatura dei referendum, quello sulla eutanasia, anche quello sulla cannabis e anche quello sulla responsabilità dei magistrati, non è tanto per queste battaglie che andranno avanti, ma è proprio per la credibilità e il ruolo del Parlamento, io non sono tra quelli che dicono che il Parlamento sono tutti ladri, ma penso anzi che sia vero quello che si dice l'antiparlamentarismo è l'anticamera di ogni fascismo, il Parlamento è sacro, ma allora deve decidere, deve funzionare, deve discutere se un tema è così forte nella società e il capopartito impedisce ai suoi parlamentari di parlarne, il danno più grave che si fa è alla democrazia nel nostro Paese e al Parlamento stesso, non alla battaglia sull'eutanasia che andrà avanti con nuove disobbedenze civili e nuovi ricorsi, questo ne possiamo stare certi perché è un tema che diventa sempre più importante per le persone. Prima di salutarci siamo in Versilia, siamo a Viareggio per quanto riguarda questa città quando si affronta un tema del genere, quello del fine vita, c'è un'immagine, una personalità che è senz'altro nel cuore di tutti che è quella di Mario Monicelli, regista a Viareggio, la sua storia la conosciamo, la conoscono tutti, aveva scosso un po' tutta l'Italia, si può immaginare ovviamente a Viareggio morto suicida ormai molti anni fa, si può dire, aveva 95 anni ed era il 2010, si gettò dall'ospedale dove era in cura per un cancro alla prostata se non sbaglio, ed è stata anche la compagna negli anni passati a sostenere la vostra causa ricordando come questo gesto possa essere letto anche come una voglia di libertà, di scegliere come terminare la propria vita. Quel messaggio, quell'immagine che ci ha lasciato Monicelli, tutto quello che è successo come lo dobbiamo leggere? Come è un segno di dignità? come dobbiamo interpretare? Intanto ogni scelta personalissima, individuale, è quasi indiscutibile, c'è chi alla malattia reagisce in un modo e chi reagisce in un modo completamente diverso, la legalizzazione serve proprio a questo, ad evitare che l'alternativa sia l'eutanasia clandestina o addirittura i suicidi, della disperazione nelle condizioni più terribili, cioè l'idea che è sbagliata e che qualcuno fa circolare è che qui sia una battaglia della vita contro la morte, allora quelli che sono per l'eutanasia sono per la morte e quegli altri sono per la vita, ma no, c'è l'eutanasia legale se la si vuole fare, altrimenti c'è l'eutanasia clandestina che si presta a ogni tipo di abusi e il suicidio di centinaia di malati terminali come Monicelli che si suicidano nelle condizioni più terribili, a volte addirittura non riescono a farlo e si trovano danneggiati in modo ancora più grave per il resto della prosecuzione di quello che gli rimane di vivere, tutto questo è inaccettabile, anche perché la libertà di scelta sul mio fine vita non incide in nessun modo su quella degli altri e questo è un principio cardine dello Stato liberale, siccome tutti possiamo prendere scelte diverse non c'è nessun motivo di imporre agli altri la nostra scelta. Noi siamo in chiusura, io la devo salutare, ringrazio Marco Capato per essere stato con noi, un tema che certamente torneremo ad affrontare, rinnovo l'invito naturalmente quando lo vorrà a tornare o venire in collegamento con noi, anche per stimolare un dibattito anche in contraddittorio su questo tema che senz'altro come ci ha ricordato una battaglia di civiltà dai punti di vista diversi dai quali si può osservare questo tema. Mi fermo qua, ringrazio gli ospiti, ringrazio la regia Matteo Bertuccelli e auguro a tutti voi un buon proseguimento di serata su Noi TV.